E' fatto le nostre ricerche e siamo andati addirittura a sbattere nel più diretto interessante. Bufala o Scoop? Veramente la cognata e l'autista di Grillo amministrano una decina di società in Costa Rica paradiso fiscale che garantisce l'anonimato ai soci investitori? Per l'Espresso è tutto vero. Walter Vezzoli, l'autista factotum di Grillo, sentito dal Fatto Quotidiano, nega invece gli investimenti poco chiari e parla piuttosto di un sogno irrealizzato. Esattamente, le parole che ripete alla nostra Silvia Brasca che lo ha, incidentalmente, intercettato a Londra. Il confeudo rimane un sogno. Che tipo di sogno è? Quello che potrebbe cambiare il mondo. Perché cambierebbe il mondo? Perché? Andare a vedere il sito. Lei ha detto che quello che ha scritto l'Espresso sono tutte menzogne. Io stai dicendo adesso. Eh? Ti posso dicendo adesso. Certo. Non c'è niente di vero. Vezzoli accetta di rispondere dopo una breve trattativa. Si trova a Londra per organizzare un concerto, spiega. Dopo il breve colloquio, ripreso con un telefonino, entra nella hall del centralissimo Baglioni Hotel, dove si trova insieme ad altre persone. Sugli investimenti in Costa Rica, rivelati dall'Espresso, non vuole aggiungere altro. A microfono spento, ripete quanto anticipato al Fatto Quotidiano sta valutando se querelare il settimanale. Al Fatto ha raccontato altro sul periodo passato in Costa Rica insieme a Naderek Tajik, cognata di Grillo dalla quale ha avuto un figlio cresciuto in quel paese. Quanto al villaggio eco-compatibile, è descritto nei dettagli sul sito ecofeudo.com con depuratori per il riciclo dell'acqua piovana, pannelli solari, paleoliche, impianti biogas e anche un bunker anti-atomico per ogni abitazione posta in collina. 155 metri sul livello del mare per far fronte al global warming, l'aumento del livello delle acque che verrà provocato, dice, dal surriscaldamento del pianeta. Per l'Espresso Vezoli è ancora l'amministratore di 13 società per gestire immobili, affari vari e soprattutto un resort di lusso. Lì gestivo una discoteca e Beppe non è mai stato in Costa Rica. Il resort non esiste, ho visto un terreno che volevo acquistare, ma non ne ho comprato nemmeno un metro. I dettagli forniti al fatto ancora da Vezoli. Nella polemica interviene Grillo stesso che sfida l'Espresso dal suo blog con una copertina che replica quella del settimanale, l'autista, la cognata e l'ingegnere. Verifica delle fonti, la Costa Rica non è paradiso fiscale già dal 2011, cinguetta Grillo. Sì, ma fino al 2009, quando vennero create le 13 società di Vezoli, il Costa Rica era nella lista nera dell'Ocse come paradiso fiscale e oggi l'Agenzia delle Entrate considera il Costa Rica un paese a fiscalità privilegiata. La replica dell'Espresso.